mosaico evolutivo globale come deve essere osservato il fenomeno medianico commento il fenomeno deve essere osservato come un mosaico evolutivo globale che si esprime attraverso varie fonti che comunica a vari livelli che tocca varie corde della sensibilità umana ma che non mette in discussione la sua unitarietà perché il suo significato non è nelle informazioni ma nel quid che le manifesta e nello spirito delle informazioni stesse chi ha compreso l'indole delle verità espresse attraverso gli iniziati di tutti i tempi non ha difficoltà a comprendere il contatto con i piani superiori di esistenza che esiste da sempre esso ha trovato con kardec la forma compiuta che noi conosciamo ma già atlantide e gli egizi per fare un esempio hanno trasmesso le stesse verità che adesso il mosaico medianico ripresenta ed elabora la verità non ha etichette perché resiste al tempo la verità presente in il libro di tot nella metafisica di aristotele nelle opere di platone nel messaggio del cristo in quello di krisda e del buddha è espressa nuovamente dal mosaico medianico che ripercorre in maniera sempre più specializzata quello che è già patrimonio dell'umanità in ogni tempo la verità ha espresso gli stessi concetti in modi diversi e adesso vari cenacoli perseguono gli stessi risultati ma adeguati ai tempi e all'ambiente evolutivo tuttavia noi non abbiamo la presunzione di insegnarvi qualcosa continuano i maestri del cenacolo k attraverso lo strumento marco affermiamo solo che l'evoluzione si serve di noi indegna sua veste per parlarvi di quello che noi stessi esperiamo se questo poi è utile anche solo a uno di voi sia ringraziato l'altissimo ma noi non abbiamo la pretesa di parlare come degli accademici di portare la verità dall'alto essa è in voi ed è nella vita macroscopica perciò chi mai potrà portare la verità l'atomo del sentire la porta in sé così come l'essere più evoluto che si possa concepire colui che vive oltre la vita dell'archetipo generale cioè in dio nell'assoluto essere l'insegnamento dei maestri immateriali non è un'ideologia ma un elemento che fa da collante per un messaggio sapienziale che da sempre sussiste unitario e che gli uomini hanno voluto suddividere attraverso stati di coscienza chiamati buddismo hinduismo cristianesimo islamismo l'insegnamento è un microscopio che ingrandisce a portata del nostro occhio quel che non possiamo ancora vedere perché siamo distratti dall'apparenza che momentaneamente sentiamo d'essere dimentichi dell'eternità che siamo